Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Mais e orto spacciati per biologici chiusa l'inchiesta vertical bio condotta dalla guardia di finanza di Pesaro 33 persone rinviate a giudizio e sequestri di beni per oltre 24 milioni di euro Spese pazze in regione chiesto rinvio a giudizio per 66 indagati tra i quali anche due assessori in carica Forti raffiche di vento e mare in burrasca via le ruggerie di nuovo disastrata vigili del pop in azione in tutta la provincia per rimuovere rami e alberi finiti in mezzo alla strada Affamati o spinti dai lupi i cinghiali si avvicinano sempre di più al centro delle città Negli ultimi sette giorni a Fano se ne sono abbattuti due esemplari e sulle regole ancora vigenti la regione indietro di vent'anni Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il telegiornale con la richiesta di rinvio a giudizio a carico di 33 persone con la quale si è conclusa l'inchiesta della Procura di Pesaro Vertical Bio L'operazione ha portato alla luce un traffico di granaglie spacciate per biologiche destinate ad animali e a uomini È stata denominata Vertical Bio l'operazione nel settore del falso biologico che in due anni di indagini ha consentito di individuare due associazioni per delinquere composte da imprenditori di Pesaro, Campobasso, Piacenza, Verona ed altri due organismi di Fano e Sassari che avevano il compito di controllare la natura biologica dei prodotti I promotori della truffa hanno importato dal 2007 al 2013 circa 350.000 tonnellate di granaglie come mais, soia, grano, colza e semi di girasole provenienti da Moldavia, Ucraina, Kazakistan e con un fatturato per le aziende che si aggira attorno ai 126 milioni di euro Alcuni di questi prodotti non solo non avevano i requisiti per essere classificati come biologici cioè con la coltivazione senza sostanze chimiche o OGM ma in qualche caso non potevano nemmeno essere consumati c'erano tracce di organismi geneticamente modificati ma anche dei diserbanti erano quindi nocivi sia per la salute umana che per quell'animale La nocività è dipendente dall'assunzione quotidiana per un certo numero di anni quasi per tutta la vita del prodotto quindi è una nocività simbolica non di immediato danno per la salute umana però è molto significativo ugualmente Altri prodotti invece non erano comunque autorizzati nemmeno per l'agricoltura convenzionale Per esempio nel caso del lino, del sequestro di lino al porto di Ravenna e questo prodotto è stato poi distrutto e quindi è stato tolto dalla circolazione per evitare che andasse a finire sulle tavole dei consumatori o trasformato in olio insomma Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro si sono concluse con il rinvio a giudizio di 33 indagati per i reati di associazione a delinquere, frode, commercio di sostanze alimentari nocive e falsità in scrittura privata Sono stati sequestrati fabbricati, autovetture, beni mobili aziendali, denaro e conti correnti per un valore che supera i 24 milioni di euro Sequestrare 24 milioni di euro di beni su tutto il territorio nazionale è una cifra indicativa così come soprattutto indicativa la straordinaria sinergia tra tutti gli attori in campo Parlo non solo della Guardia di Finanza che ha svolto tutti gli accertamenti patrimoniali ha collaborato a delineare il quadro associativo ma parlo anche dell'Ispettorato delle Pressioni e Frodi del Ministero delle Politiche Agricole che con tutto il suo tecnicismo ha dato quella chiave di volta a una struttura criminale a individuare una struttura criminale così pervicace e così diffusa in territorio anche estero Da queste cartine invece è possibile capire come il fenomeno fosse capillare non solo in Italia ma anche all'estero Noi oggi dobbiamo ragionare in questi termini non siamo più da soli, siamo in un ambito comunitario dove ci sono delle strutture di polizia e giurisdizionali che operano insieme abbiamo l'idea che in questa materia per questa vicenda sia giusto e opportuno a interessare i colleghi degli altri paesi europei Adesso parliamo delle presunte spese pazze in Regione perché è stato chiesto il rinvio a giudizio anche per tutti i 66 indagati a rischiare il processo anche due assessori in carica Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti La procura di Ancona ha chiuso l'inchiesta sulle presunte spese pazze per 1.200.000 euro del Consiglio regionale fra il 2008 e il 2012 chiedendo il rinvio a giudizio di tutti i 66 indagati 61 politici e 5 funzionari L'udienza preliminare è fissata per il 18 gennaio Fra gli indagati ci sono anche due assessori in carica che rischiano il processo Si tratta di Moreno Pieroni del PSI Uniti per le Marche Assessore alla cultura e turismo e quello all'ambiente Angelo Sciapichetti del Partito Democratico I magistrati hanno chiesto il giudizio anche per l'ex governatore Gian Mario Spacca l'ex presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi entrambi eletti con il PD ma poi passati a Marche 2020 l'ex consigliere attuale segretario regionale del PD Francesco Comi e vari consiglieri eletti nella nuova legislatura I reati ipotizzati sono peculato o concorso impeculato per spese ritenute non congre con l'attività istituzionale pranzi e cene con sostenitori onomastici e compleanni festeggiati con i familiari rimborsi chilometrici taroccati manche e consulenze, regali di Natale, ricariche telefoniche e stampa di manifesti Sono migliaia gli scontrini passati a setaccio dalla Guardia di Finanza di Ancona in un'inchiesta cominciata nell'ottobre del 2012 con le prime acquisizioni documentali condotte dal Fiamme Gialle nei palazzi della Regione Fra le spese più curiose è quella ormai famosa contestata all'ex consigliere della Federazione della Sinistra Raffaele Bucciarelli l'acquisto per 16,80 euro di un libro sull'orgasmo femminile Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli su questo argomento ha detto, mi auguro che le persone coinvolte possano dimostrare la loro correttezza oggi è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio ma prima di trarre conclusioni aspettiamo l'udienza preliminare poi ha concluso Ceriscioli le sentenze del primo grado di giudizio Alla luce di ciò che è accaduto dopo il salvataggio di Banca Marche abbiamo chiesto ad uno che le banche le conosce bene qualche consiglio utile per cercare di evitare di sbagliare insomma il meno possibile anche alla luce delle nuove regole che entreranno in vigore nel gennaio del 2016 La rabbia di azionisti e obbligazionisti di Banca Marche non si placa i clienti si sentono traditi e in tanti si presentano gli sportelli dell'istituto di credito per chiedere spiegazioni e rassicurazioni ma le conseguenze del provvedimento del governo cosiddetto salvabanche sono realtà drammatiche l'operazione infatti ha colpito decine di migliaia di risparmiatori che hanno perso tutti i loro accantonamenti frutto magari di una vita di sacrifici i loro risparmi sono andati in fumo e secondo un consulente finanziario Alessandro Brandoni c'è ben poco da sperare Le speranze sono, è bene dirlo subito davvero ridotte al lumicino perché come già alcuni avvocati specializzati nel settore hanno avuto modo di verificare tutta la normativa che è stata attuata è non solo nuova ma lascia poche possibilità di successo a eventuali azioni risarcitorie Sarebbe meglio diffidare dunque di chi propone iniziative che avranno un sicuro successo Le persone, prosegue Brandoni ebbene che sappiano fin da subito che questa nuova normativa definita del bail-in ha completamente stravolto il mondo del risparmio e le tutele esistenti Quello che succederà dal 1 gennaio 2016 in caso di crisi di una banca e applicazione della normativa così com'è quindi del bail-in vedrà coinvolti sì gli azionisti sì gli obbligazionisti subordinati ma anche gli obbligazionisti cosiddetti senior e tutti coloro che hanno delle giacenze disponibilità sopra i conti correnti di oltre 100.000 euro Quale consiglio si senti di dare ai risparmiatori? Allora, come ha detto anche Patuelli che è il presidente dell'Associazione dei bancari italiani i risparmiatori tutti devono guardare da adesso in poi con molta attenzione la banca in cui mettono i propri risparmi e come ha suggerito lui dice quando vi comprate una casa fate mille indagini verificate mille cose stesso discorso dovrete fare per la vostra banca perché viene meno il presupposto che lo Stato salverà salverà le banche da eventuali fallimenti quindi il consiglio che posso dare agli investitori è cercare di scegliersi bene la banca con cui lavorano di diversificare il più possibile i propri investimenti e di non pensare che ci sia qualcosa sempre di garantito Il problema dei cinghiali il problema dei cinghiali che si spingono sempre di più nei centri abitati qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di due cinghiali uno abbattuto perché si trovava praticamente vicino ai passeggi l'altro investito da un'automobile abbiamo chiesto a un esperto di spiegarci perché questi animali si spingono sempre di più nei centri abitati Si spostano verso i centri abitati distruggono gli orti e causano perfino incidenti stradali i cinghiali continuano ad essere un problema non solo per i titolari di aziende agricole e zootecniche ma anche per gli automobilisti l'ultimo sinistro si è verificato martedì sera lungo la Flaminia Fano dove intorno alle 21.20 un cinghiale è sbucato dal campo che costeggia la strada ma il conducente di un'auto che stava sopraggiungendo non è riuscito a frenare in tempo il guidatore ne è uscito illeso per l'animale invece non c'è stato nulla da fare sabato scorso ne è stato avvistato un altro lungo il canale Albani di circa 80 chili ma la polizia ha deciso di abbatterlo in molti inoltre ricordano ancora la tragica morte di un uomo di 76 anni avvenuta nell'agosto scorso attaccato da un cinghiale fuori dalla propria abitazione nelle campagne di Cefalù in provincia di Palermo un'aggressione che ha riacceso l'attenzione dell'opinione pubblica sui pericoli legati a questi mammiferi a parlarcene il presidente dell'ambito territoriale di caccia Pesaro 2 Davide Dini L'incremento di questa specie è avvenuta diciamo negli ultimi 20 anni a causa soprattutto le cause sono diciamo molteplici e i fattori che hanno permesso l'incremento di questa specie sono prima di tutto ambientali perché con lo spopolamento dell'appennino questa specie ha trovato con l'aumento della forestazione un abito favorevole al suo sviluppo inoltre è una specie molto prolifica che ha dei tassi di accrescimento che vanno dal 90 al 180% ogni anno della popolazione i cinghiali si spostano attraverso le aste fluviali e quindi attraverso il metauro l'arzilla o il fiume foglia e la loro presenza è segnalata in particolare a Pesaro ad Ancona Macerata e ad Ascoli Piceno ad avvicinarli alla costa sono anche i lupi i loro unici antagonisti naturali per cercare di risolvere questo fenomeno nel mese di settembre la regione ha istituito un tavolo tecnico composto dagli ambiti territoriali di caccia dalle province e dagli enti gestori delle aree protette l'obiettivo è quello di studiare nuove forme di interventi che riguardano la gestione e il controllo con una maggiore sinergia di tutti i soggetti che gestiscono la fauna il controllo del cinghiale può essere fatto in selezione chiaramente attraverso un piano di presidio di battimento ma anche attraverso la cattura gli esemplari adulti possono misurare fino a 150 cm di lunghezza per un'altezza che può sfiorare il metro ed un peso di un quintale circa ci sono tuttavia grandi variazioni di dimensioni e peso a seconda della sottospecie in base al calendario venatorio della regione Marchia possono essere cacciati nel periodo che va dal 1 novembre al 31 gennaio ma le leggi che le riguardano sono datate infatti hanno più di 20 anni proprio in questi giorni si sta discutendo in Parlamento di modificare appunto le leggi che consentono una gestione a 360 gradi una gestione che coinvolga anche le aree vincolate e quindi permetta di tenere sotto controllo questa specie durante tutto l'anno commenti e riflessioni sull'enciclica di Papa Francesco è l'iniziativa che si terrà sabato 28 novembre alle ore 17 nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio di Fano durante l'incontro che sarà a cura di padre Salvatore Frigerio monaco camaldolese dell'eremo di Montegiova e sarà donata una copia del volume a tutti i presenti e adesso parliamo invece delle forti raffiche di vento che hanno causato non pochi problemi in giro per le strade della provincia di Piesa Urbino ma in particolare hanno di nuovo fatto chiudere la strada una strada ormai arcinota a Fano che è Viale Ruggeri che praticamente è a ridosso del mare è lo scenario che si presenta per l'ennesima volta in Viale Ruggeri le forti raffiche di vento e le mareggiate hanno riportato il solito tappeto di ghiaia lungo la carreggiata flagellata dalle onde la strada è stata spesso chiusa al traffico dai vigili urbani ma in attesa delle nuove scogliere i residenti temono che ancora una volta l'erosione marina possa vanificare gli interventi di ripristino le operazioni erano state eseguite dopo le ondate di maltempo che avevano devastato la costa adriatica la paura però è anche quella di una nuova inondazione dopo che nel mese di febbraio erano stati allagati garage e scantinati provocando danni ingenti ai campi alle abitazioni e alle attività stagionali di Sassonia Sud le nuove scogliere dovranno servire proprio a proteggere quel tratto di costa sempre esposto agli effetti delle violente mareggiate ma su questo erano state annunciate buone notizie la scorsa settimana infatti dopo il parere positivo sul progetto per la pose in opera da parte del dirigente dell'ufficio regionale delle opere marittime è stato pubblicato il bando di gara entro Natale l'amministrazione comunale di Fanno riuscirà ad assegnare i lavori rispettando così i tempi necessari per utilizzare il contributo di 3 milioni di euro questa cifra consentirà quindi il rifacimento delle scogliere e la risoluzione del problema dopo anni di attesa richieste e preoccupazioni nel complesso monumentale di San Michele a Fanno sempre nella giornata di domani verrà inaugurato alle ore 11 il museo dell'arco d'Augusto l'iniziativa organizzata dalla fondazione Carifano in collaborazione con la sezione fanese dell'archeoclub d'Italia per la prima domenica di avvento l'unità di Fanno ha organizzato una serie di iniziative legate al Natale il rito dell'adesione il concerto di Natale e i trenini di cioccolato per raccogliere fondi l'Unitalsi fanno triplica le sue iniziative programmate per domenica 29 novembre al mattino i volontari Unitalsi insieme ad ammalati e pellegrini prenderanno parte alla Santa Messa delle ore 11 alla parrocchia Gran Madre di Dio durante la celebrazione si svolgerà il rito dell'adesione una manifestazione della scelta di volontari ad impegnarsi in favore di malati anziani e disabili e a prestare servizio gratuito in spirito di autentica carità cristiana la seconda iniziativa si svolgerà nel pomeriggio alle 15 e 30 nella Basilica di San Paterniano per il tradizionale concerto di Natale oltre al coro polifonico malatestiano al coro incanto malatestiano e al coro delle voci bianche sempre del coro malatestiano avremo anche l'orchestra di Santa Maria del Suffragio novità assoluta avremmo i solisti della scuola International Opera Studio di Pesaro per quanto riguarda i trenini saranno in vendita davanti la Gran Madre di Dio e davanti la Basilica di San Paterniano è un'iniziativa che ci serve per raccogliere dei fondi per i nostri pellegrinaggi siamo riusciti a quest'anno a ritornare ai livelli pre-crisi con la partecipazione perché abbiamo aiutato tanti malati tanti disabili tanti anziani che non avrebbero altrimenti più potuto partecipare però le nostre casse ne hanno risentito parecchio grazie a queste iniziative riusciremo anche il prossimo anno a continuare le nostre attività adesso prima di chiudere il telegiornale andiamo a vedere come stanno procedendo i lavori in piazza 20 settembre per il montaggio dell'albero di Natale un albero di Natale come abbiamo più volte ricordato che è un albero in legno quindi è una struttura particolare questo albero verrà posizionato in piazza 20 settembre lo ricordiamo è realizzato dall'artista Paolo del Signore e dall'architetto Stefano Seri l'albero sarà in legno alto 12 metri e peserà quasi 150 quintali serviranno ben 1700 bulloni per montare l'intera struttura domenica 6 dicembre alle ore 17.30 ci sarà la cerimonia di accensione ed era l'ultima notizia grazie per aver seguito il nostro telegiornale a voi tutti l'augurio di una buona serata arrivederci a voi tutti ора a voi a voi a voi a voi Grazie a tutti.